Un cammino silenzioso e partecipato di una comunità scossa dal terribile omicidio del 23enne Dario Gegennaro, ma che prova a reagire alzando la testa e stringendosi nel nome dei valori condivisi. Ha preso il via dalla chiesa di San Domenico di Molfetta la Marcia della Non-Violenza e della Legalità, promossa dalla comunità parrocchiale Immacolata, San Domenico e San Gennaro, della stessa cittadina del Barese, in comunione con il Vescovo di Molfetta, Ruvo, Giovinazzo e Terlizzi, Monsignor Domenico Cornacchia, e con tutta la chiesa locale, unite nella fede e nella volontà di promuovere valori fondamentali della società, come la non-violenza, appunto, frutto della legalità. Sono questi i temi su cui i partecipanti si sono interrogati durante la marcia, riportando alla mente le volte in cui si è scesi nell'illegalità, un momento di condivisione, riflessione e raccoglimento pensato per trasformare il dolore in energia positiva, il crimine in manifesto della legalità e di una società sana. Al cammino, organizzato dalle tre parrocchie molfettesi, guidate rispettivamente da Don Silvio Bruno, Don Paolo Malerba e Don Andrea Azzollini, ha preso parte anche il sindaco Tommaso Minervini, unitamente a tantissimi giovani della città e non solo, accorsi per accompagnare Dario verso l'eternità, uniti tutti dallo stesso desiderio di vivere in una società che non conosca illegalità e violenza.